ciao rockers come state veramente bene bentornati nel canale innanzitutto un grazie un grazie molto grande perché abbiamo superato i 300 iscritti e per chi di voi mi segue da più tempo e mi conosce e sa le ragioni per cui ho aperto il canale per me sa che è veramente già un grandissimo traguardo vorrei ringraziare subito diciamo i rockers più attivi e partirei subito da romeo poi potrei salutare mirko vorrei salutare anche gabriele e poi volevo salutare i nerd attack che sono sempre attivi saluto michael the out player saluto shoji e tutti voi che mi seguite bene dopo questo sproloquio così molto affettuoso direi che potremmo continuare bentornati dicevo su alien isolation è il quinto gameplay nella puntata precedente siamo morti un po' de brutto così siamo rimasti sparati un po' de brutto quindi adesso dopo l'intro giocheremo molto bene abbiamo schiacciato continua partita niente vi dicevo che veramente vi volevo voglio ringraziare perché mi state seguendo questo mi fa piacere vi ricordo di andare a vedere mentre siamo qua un attimo in pausa la voltru di the ever within che sta avendo un buon successo mi raccomando seguitela mettete mi piace condividetela perché un gioco veramente difficile mi sto impegnando per riuscire a fare un gameplay decente qui su alien isolation è da un po' che non registro il gameplay e sono rimasto un po' indietro comunque vedremo adesso dopo la seconda intro ok eccoci qua ragazzi dunque eravamo rimasti alla casa di axel mi sembra giusto che succede ah già con due cerco un modo perché ti sei servito per bene che cosa cazzo vorresti dire è stato con me per tutto il tempo mancano cibo munizioni medicinali se non è stato uno di noi avevamo ragione di qua non mi sembra molto non va bene dovremmo essere al sicuro non mi sembra l'ideale ci hanno già sparato prima altra volta ci hanno sparato no occhi aperti tenete le armi pronte qualcuno dovrà dirlo al capo capo è solo il commesso di un negozio ah sì pensi che tu potresti fare di meglio non sta dicendo questo sto solo dicendo piantatela di parlare e aiutatemi a controllare questa roba ovviamente se riuscite a chiudere la bocca per più di cinque secondi andava fatto immagino ma è stata una vostra idea non mia scendiamo di qua porca troia e ma qua dove vado però due non la vedo veramente bene fammi capire dove devo andare ragazzi ma qua lo vedo c'è bene spegni il generatore e quindi cazzo vengono a vedere però che cazzo succede? il generatore è morto e si è spento da solo no c'è qualcuno oh e se vengono meglio controllare tutti con me merda non la vedo bene qua non so di chi mi fido di più se di voi o dei sintetici chi c'è? esci fuori e non ti faremo niente ho visto non sembra rotto e come lo sai Einstein? se fosse fuso ci sarebbe del fumo beh di certo ora non... capottana l'interruttore di emergenza? un topo forse si è incastrato e l'ha attivato un topo? solo un enorme ratto potrebbe riuscirci allora non lo so qualcuno vuole farci incappare forse è la stessa persona che ha rubato la nostra roba il pensiero mi dà i brividi non mi vede questo il diavolo è stato no ragazzi ma mi vede o no? va via da qui secondo me mi vede adesso mi... ti abbiamo avvisato stai indietro ho sparato in faccia non la vedo bene non la vedo bene dove è andato quell'altro scemo? ha tirato fuori il razzo che cacchio è tirato fuori il razzo a fare? poi quell'altro scemo dove è andato? oh my god ragazzi mi sa che ce la siamo giocata veramente male li abbiamo fatti incazzare ci hanno sparato e quindi le acque sembrano calme adesso però sta con sto razzo in mano come un coglione non è bello ma dove è andato questo scemo? è sempre lì ma che abbiamo combinato qua? e questi dove sono scusa? ma che dobbiamo fare adesso? non la vedo bene per niente qua che io debba girare dove c'è sta luce dove sono loro che sto facendo io qua? bel lavoro Ripley da questa parte seguimi facciamo piano sono ancora qui vicino K con Axel scusate ragazzi ma sono un po' sciocchiato perché non pensavo che fosse così easy fammi salvare va che la vedo bene salva la mia partita salva la mia partita siamo riusciti a superare in un modo un po' strano però quanto manca? ci siamo quasi la navetta è poco più avanti e dai solo che la tua nave sia ancora lì andiamo porco se basto Paul non è proprio come te l'aspettavi eh devo andare io? vabbè sto cazzone non fa mai niente deficiente 10 oh eh con sto razzo in mano devo girare porco due però vabbè dai ho già capito che devo fare io non dovrei nemmeno essere qui sarei dovuto partire la settimana scorsa scusate eh ciao perché sei ancora qua a rompe le palle c'è del terminale se va Stoling e se finalmente ho trovato da sbloccare in due finalmente ho trovato quello che cercavo il capo non se ne accorgerà nemmeno quando si chiude la stazione si perdono sempre molte cose non preoccuparti nemmeno della dogana Sinclair ha detto ai suoi di chiudere un occhio saranno di certo troppo impegnati a ozziare o prendere mazzette per accorgersene comunque raccogli qualche semini direi quindi ecco due sti razzi però hanno rotto le palle l'etanolo ah veramente quello che ci serve andassi avanti anche tu non è un vabbò va ho già capito che devo andare io Axel non vali una cippa lippa è bloccato quegli stronzi ci hanno isolati sì ho capito dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aprirlo io mi occupo di questa tu vai a quella dall'altro lato ok pingi l'interruttore quando lo fa Axel sarebbe bello trovarla subito ah sarà di qua ok eccola premi l'interruttore al mio 3 1 2 3 axel dietro di te what the fuck salvo Axel come lo salvo venite qui ho trovato tieni premuto per correre il rischio etterà l'attenzione premi e tieni premuto hai scelto la persona sbagliata cazzo che botta che gli ho dato a questa oh cazzo andiamo gli altri stanno arrivando morto come lo vedete ora ehi what the fuck via 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 muoviti malandegli cazzo quanto corre quello oh ucciso orca di quella l'hai ucciso perché stava per uccidere me mi hai salvato la vita è questione di sopravvivenza è questione di sopravvivenza lo capisci ok si però non spingere che m'ho cato lì eh c'è qualcosa what ma che roba è shit oh shit oh my god tutto morto raggiungi la stazione oh my god si tutto molto bello però la pistola di quello devo proseguire si calmati calmati ciccia ti vedo un attimo stressata e preoccupata eppure io lo sono veramente però nel frattempo vorrei capire dove devo proseguire tu come la vedi proviamo a vederti qua va cazzo ne so io dove sto andando ragazzi orco due orco due oh shit mamma mia qui c'è già quello che strilla orca trota ragazzi non la vedo bene così al buio la torcia non la posso accendere perché è chiusa questo dovrebbe essere aperto chiusa questo dovrebbe essere aperto oh non facciamo cazzate eh mamma mia che è sta musica orco due ragazzi ma che ansia c'è qua orca trota orca trota ma dai madonna mia che musica ansiolitica apriti sedano oh porco due o quanto ci metti oh mortacci tua chiudi fai qualcosa ma di che cazzo stia parlando what mamma mia ragazzi che è successo qua wow orco due non la vedo veramente bene mi ha un attimino sciocchiato questa musica a suo modo mi ha messo un bel po' d'ansia ragazzi quindi io direi che adesso mi fermo qua con questo gameplay vi ringrazio ancora una volta per tutte le visualizzazioni per le iscrizioni vi ringrazio se metterete un bel like vi ringrazio perché mi continuate a seguire vi ringrazio e basta e poi dopo noi ci vediamo al prossimo gameplay tu come la vedi ciao rockers ciao